Dopo le folli acrobazie di Persegania Menardi, la rassicurante sapienza di Annina Moroni, che prepara una cosa più seria e semplice. Questa ricetta è contenuta nel nuovo libro di Antonella, ideata da una telespettatrice affezionata. Prepariamo i ravioli con ricotta prosciutto cotto e tartufo. Ingredienti pasta 400 g farina, 4 uova grandi farcia 200 g ricotta di pecora, 200 g ricotta vaccina, 1 uovo, 1 pizzico di noce moscata, tartufo burro, salvia, tartufo, formaggio grattugiato Procedimento Prepariamo la pasta all'uovo impastando la farina con le uova. Ottenuto un panetto omogeneo e liscio, lo avvolgiamo nella pellicola e lo lasciamo riposare per mezz'ora. Ripieno mescoliamo la ricotta, di pecora e mucca, con l'uovo ed il formaggio grattugiato. In padella, facciamo scaldare il prosciutto cotto a listarelle con una noce di burro. Uniamo alla ricotta e profumiamo con noce moscata. Possiamo scegliere di tritare finemente il prosciutto cotto ripassato. Mescoliamo per bene. Tiriamo la sfoglia sottile. Ritagliamo dei dischi con un coppapasta. Al centro di ogni disco mettiamo una noce di ripieno. Richiudiamo la sfoglia sul ripieno. Chiudiamo a mezza luna sigillando i bordi. Pieghiamo a tortellone. Altrimenti lasciamo a mezza luna. Lessiamo in acqua bollente e salata. Condimento sciogliamo in padella un tocco di burro. Mettiamo a rosolare il tartufo grattugiato o semplicemente della salvia. Uniamo i tortelloni e li mantechiamo con appuntamento.